È indubbiamente grande, una grande motivazione, ma non solo perché è praticamente un anno che sono fermo e dall'anno scorso sono uscito molto presto, ma soprattutto perché ritengo che qui ci siano le condizioni di sfattare un po' tutti quei presupposti che sembrano negativi. Io sono convinto che Palermo sia una piazza importante, che sia una società importante. Ho la stima del Presidente, ho la stima del Direttore Sportivo e quindi questa è una scommessa sotto tanti profili e c'è la possibilità di far bene e di vincerla. Intanto ho bisogno, secondo me, di un'idea precisa di gioco dall'inizio, subito, nel modo che se incominciamo a variare continuamente ogni partita oppure durante l'arco della stessa gara può diventare un problema. Bisogna dare delle certezze, almeno a quello che penso io, delle certezze di gioco subito. Il mio obiettivo è quello di restare. Spero che lo sia possibile. Guardate, non guardate.